Il capitolo 1085 di One Piece è stato stupendo ma soprattutto ci riempie con altri misteri Dalla spiegazione di Him, la verità sui nefertari e le figure dei Gorosei Ma prima di parlarne vi voglio ricordare di iscrivervi e di lasciare un like al video Vi ringrazio dal profondo del cuore per il supporto che mi date Ma ora parliamo del capitolo 1085 Il capitolo inizia con Him che spiega alcune cose di 800 anni fa Come il fatto e tutto quello che sta succedendo negli ultimi anni è colpa della regina Lily Però pure ha una domanda a cobra sul fatto che sta nascondendo un elemento su Lily Infatti l'attuale re gli dirà che la famiglia nefertaria la di nel nome Sabo attaccherai Gorosei e inizierà a scappare Cobra non vuole essere un peso, gli dirà di dire la verità a Luffy e Vivi e morirà dicendo le parole della vecchia regina Intanto Waple ha visto tutto e inizierà a scappare ovunque per sfuggire da Him Vivi è stata catturata dalla CP0 ma verrà salvata per sbaglio da Waple e fuggiranno insieme da Marigioa Ho letto questo capitolo almeno tre volte per cercare delle risposte che purtroppo non esistono Siamo sinceri, questo capitolo dà tanto al lettore sia come emozione sia come spiegazione Però queste suddette spiegazioni continuano a non essere complete A porci sempre più domande che scopriremo tra tantissimi capitoli Vorrei iniziare dalla parte più semplice ovvero quel finale molto divertente con Waple che ha scoperto fin troppe cose Voglio ragionare su un elemento che mi fa troppo ridere Col passare del tempo il caro Ichiro Oda sta facendo tornare in auce vecchi personaggi come potevamo dimenticare E Waple è fra questi Parliamo di un coglione neanche così potente che ha dato dei fastidi nel regno di Drum Ok che sappiamo da tanti anni che lui è diventato il regnante di un altro paese Ma nella realtà dei fatti non è un personaggio principale della trama Mentre già dal capitolo 1074 abbiamo avuto un assaggio di quello che poteva essere la sua entrata come personaggio importante all'interno della storia attuale Bisogna sempre permettere che non sappiamo ancora se lui ha avuto delle informazioni in più da quando è scappato fino al presente E ora è importante ricordarci che ora è sulla lista nera del governo E questo capitolo lo ribadisce col fatto che Revery è continuato senza la sua presenza Non dico che deve entrare nella futura battaglia principale per quanto sarebbe divertente da vedere Ma spero che come Buggy avrà un minimo di senso all'interno della storia principale Mi sa che è giunto il momento di parlare dell'elefante nella stanza Anzi dell'ombra dell'elefante visto che ci sono state ben 6 figure nascoste in questo capitolo 1085 Sicuramente il discorso di himma è interessante e riesce a farci proprio che dire il discorso dei 100 anni di vuoto Il personaggio della regina è fondamentale per tutta la storia di questo mondo Perché senza di lei non sarebbero esistiti questi quasi 1100 capitoli Come avevo detto nel video sullo scorso capitolo Se questa regina è veramente così importante non sarebbe strano se l'era amico o alleata di Joy Boy Ovviamente voglio che le mie parole vengano prese come semplice l'azione di quello che ci mostra il capitolo Quindi non vado troppo oltre con la fantasia Imma alla fine del suo discorso parlerà del fatto di tutto quello che abbiamo visto in questi 800 anni in merito di questa regina Ma lei arriverà di Ponegriff per un errore oppure era una cosa voluta Arrivati a questo punto non sarebbe strano se la seconda opzione sia la più sensata Anche perché in tutto questo discorso è stato messo all'ennesima informazione Ovvero cosa abbia scritto la regina Lily Sappiamo solo che Ponegriff sanciranno l'inizio di un nuovo mondo Che il governo non vuole farci scoprire Ma non c'era bisogno di questa informazione Perché sappiamo perfettamente il perché siano così importanti E banca semplicemente la cara Robin a raccontarci tutta la storia o meno nascosta al mondo Con questi piccoli dettagli mi sembra ovvio pensare a tutto ciò E vorrei aggiungere un'ultima discussione che sicuramente avrà incuriosito molte persone Riferendomi alle figure nascoste citate prima Possiamo notare da soli che sono diventate delle figure molto strane Mentre quella di Him non si vede veramente ma possiamo capire la sua terrificante potenza Escluso l'assoluto re del mondo I corosei sembrano totalmente trasformati Come se avessero l'assunto delle sembianze animalesche Per esempio uno è paresemente un uccello Un altro sembro un rinoceronte col corno che si ritrova E così via per tutti gli altri Dopo la scoperta del frutto Komugomu Che in realtà è litoito no mi modello ni Che non sarebbe strano immaginarci che esistano altri frutti Non dico come il suo ma che perlomeno siano degli zoom mitologici abbastanza particolari Soprattutto da risvegliati In questa categoria abbiamo già altri esseri bellissimi e mostruosi Come la Fenice di Marco Il Drago Azzurro di Kaito La Yamata Noroshi del suddetto Rochi eccetera eccetera Quindi il discorso fila abbastanza liscio Perché creature come quelle non esistono in questa categoria Ritrovarci per esempio in un uccello mitologico sarebbe più conesto Almeno settimana prossima non c'è pausa Quindi potremmo già andare avanti in questa lettura Che ci tiene compagnia da tantissimi anni Ma la tocca a voi Scrivetemi nei commenti Cosa ne pensate di questo capitolo? E alla prossima! Ciao!